ha segnalato un ritardo superiore alla mezzo minuto, ultima curva a destra, si va dunque verso la volata a due tra Colbrelli e Masnada, attenzione perché può essere un elemento importante il traguardo, i corridori lo vedranno soltanto quando mancheranno 70 metri alla conclusione, ha cercato una volata lunga, lunghissima Masnada non si è fatto sorprendere, sono di Colbrelli che va verso la vittoria, verso il trionfo è lui